Ciao ragazzi siamo tornati con gli incarichi di Fortnite parte 5 incubo li andiamo a vedere tutti quanti insieme partiamo con la suona il clacson in un veicolo di notte quando si accendono le luci o quando non vedete il sole in cielo quando si sentono i grilli non si sentono da tutte le parti schiacciate la freccetta in giù quella che usate per fare le motte dentro una macchina vi suona il clacson 15 volte vi conta la missione poi c'è un'altra missione che io ho già fatto ed è quella di eliminare nemici prima che inizia a chiudersi il primo cerchio della tempesta il primo cerchio raga comincia circa dopo 3 minuti appena vi buttate parte un countdown che dura 20 secondi poi ne parte uno che dura un minuto e poi compare primo cerchio a 2 minuti inizia a chiudersi dovete eliminare cinque persone poi abbiamo metti e segno colpi alla testa questo si può fare agli scagnozzi anche quindi atterrate al raft al doom si attacca al cello di doom o alle torrette meteo colpite la testa di scagnozzi ve la conta immediatamente un attimo che vado fuori da qua se no ci rimango secco perché ho davvero poca 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 vita l'altra missione è in taglia zucche anzi facciamo prima a distanza percorsa con attacco a scatto della motosega andando a cupo cancello a residenza del ribelle l'npc per 300 lingotti ci vende la motosega si può fare anche con cioè si può anche trovare in giro raga ogni tanto si trova e appena la trovate l2 scattate vi fa questo movement qua e fate mille metri vi conta la missione ora me dovrebbero mancare nel centro quindi mi dovrebbe dare anche già gli xp eccoli qua poi abbiamo l'altro incarico che era in taglia zucche in questi vediamo se riesco ad andare qua prima che scade prima che arriva la tempesta in questi punti di riferimento ragazzi sono delle zucche basta interagire e le in taglia praticamente gli fa gli occhi e la bocca le addobba a mo di halloween diciamo e basta farlo per cinque volte nei cinque luoghi indicati non so se va bene anche lo stesso luogo in più partite poi vediamo se c'è qualche visita diversi luoghi indicati o punti di riferimento innevati sono questi qua raga i luoghi indicati sono le città quindi grande acciaio castello di dum i punti di riferimento sono e non so le stazioni dei treno le baracche vicino ai bunker o i bunker ora non ricordo tutti quei posti la insomma dove si può interagire delle costruzioni chiamiamole così raga io non penso di arrivarci la perché hanno la tempesta si chiude tra 14 secondi no quindi sicuramente non ci arrivo muoio muoio di tempesta allora ci fermiamo qua anche perché sennò il video dura davvero tanto quindi un bel like ozzo per supportare il canale un'altra roba come sta bene questa skin con bacchetta stella sta davvero 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 carina ci può stare raga se per caso l'avete shoppata provate questa combo perché secondo me è spettacolare ciao